Ok, allora io proseguo a questo punto, dopo questa descrizione delle esperienze che esistono, delle potenzialità e anche di quello che abbiamo visto, porterei un po' tutto nel Lazio e anche sulla politica, sulle intenzioni, sulle istituzioni, su quello che effettivamente l'amministrazione può fare. E chiamo in causa la consigliera Marta Bonafoni di Sinistra Ecologia e Libertà, una new entry a dire la verità, alla quale do la parola proprio per spiegarci un po' quali sono le intenzioni, qual è l'indirizzo che il Lazio sta prendendo o comunque che avete intenzione di far prendere alla nostra regione per dare corpo e gambe a questi progetti, almeno qui nel Lazio. Grazie, buon pomeriggio, vi ringrazio per questa opportunità che ci date, parlerò insomma di una proposta di legge che ha come primo firmatario non la sottoscritta ma Gino De Paulis che è impegnato, oggi avevamo un consiglio straordinario sulla sanità nel Lazio per cui in due non potevamo assentarci, dopodiché se avrà tempo e il consiglio finirà in orari diciamo leciti e oggi proverà ad arrivare anche lui a raggiungerci. Dunque grazie per questo spazio ma ancora di più grazie perché un'occasione come quella di oggi ci permette la partecipazione da questo punto di vista è stra incoraggiante secondo me di aggredire questa questione innanzitutto da un tema che sta prima le tante utilissime, interessantissime cose che abbiamo ascoltato finora ossia la grandissima ignoranza che c'è intorno a questo tema fuori da qui evidentemente, ignoranza che io da quello che ho potuto capire nei due anni in cui sto frequentando i palazzi istituzionali ha innanzitutto nella politica un esponente di eccellenza, cioè non si sa nulla del tema che noi stiamo affrontando, dunque o non si affronta dal punto di vista legislativo oppure addirittura si osteggia qualcosa che come dire non è neanche vagamente tratteggiato nelle cifre, nelle competenze, nelle consulenze che sono in cura, come vedete c'è una sala consulenza aperta praticamente dopo l'intervento della ragazza di Taranto con accento tarantino puro come avete ascoltato, però giustamente c'è l'esigenza di capire cosa si può fare, dunque di svelare innanzitutto sul piano culturale quello che è un tabù non si capisce bene perché o meglio si capisce visto che questo è un paese che parla di innovazione ma poi non riesce a praticarla tra l'altro in questo tema che secondo me guarda al futuro ma ancora di più dimentica il passato altro problema fondamentale che ha certa politica, l'assenza di memoria, cioè queste erano coltivazioni che negli anni venti hanno fatto dell'Italia un'eccellenza di produzione nel mondo ed era un'eccellenza che tra l'altro come dire è stata soppiantata dal petrolio, esattamente quel petrolio nemico di un modello di sviluppo che oggi noi ci affanniamo più o meno concretamente più o meno in buona fede ad osteggiare poi che ci sta mandando al macello tutti quanti, cioè come sapete l'ozono eccetera eccetera, per cui un cerchio che noi saremmo in grado di chiudere dopo domani facendo tesoro di esperienze che già stanno camminando in alcuni territori del nostro paese e cheppure continuiamo a relegare alle pagine più o meno culturali, più o meno alternative di alcuni quotidiani o riviste specialistiche che non riescono a fare dibattito come si dice mainstream. Io credo che un'occasione come questa, secondo passaggio che voglio fare prima di entrare nel merito della legge che meglio di me però vi racconterà Emiliano che ha lavorato alla stesura di questa legge e questo non è un dettaglio nel senso che io credo profondamente a quelle norme che arrivano esattamente dai mondi che poi su quelle norme devono avere le ricadute positive, non esistono leggi calate dall'alto che funzioni, non esistono molte leggi inutili o poco funzionali ma quelle che si candidano a funzionare sono quelle scritte insieme a chi poi ne debba usufruire. Dicevo, primo dato, il primo incasso di un pomeriggio come questo, quello di togliere il velo di ignoranza rispetto a questo tema, secondo dato quello di fare rete. Si fa rete o si tenta di fare rete su tante questioni, secondo me questa è una di quelle questioni in cui se siamo bravi a fare rete riusciamo ad ottenere dei risultati. Io so che fra le associazioni si fa rete, fra pezzi di mondo si fa rete, forse su questo tema fare rete con l'istituzione è qualcosa di meno scontato, di meno immediato. Io credo che da oggi anche un po' forzando la mano rispetto, ripeto, a certi stereotipi che vicendevolmente forse mi spingo a dire ci contraddistinguono, possiamo farli crollare in virtù di un obiettivo comune, quindi la politica, le associazioni ma anche i mondi delle produzioni che sono qui coinvolte. Alcuni hanno già parlato, altri sono tutti citati nella legge, c'è il mondo dell'agricoltura, c'è il mondo delle nuove produzioni industriali, il mondo delle edilizie, abbiamo avuto poco fa la rappresentazione di una fantastica riconversione produttiva, ferro, metalmeccanici, edilizia, canapa, cioè di nuovo la messa in pratica di qualcosa che in questo paese noi ci diciamo come cambiare modello produttivo dopo la botta della crisi, peraltro ancora non finita, esiste la possibilità, sta già camminando, l'istituzione ha il dovere di accompagnarla e finanziarla, perché il tema dei finanziamenti non è evidentemente secondario. È una legge snella, una proposta di legge snella, questa che mi appresto a raccontarvi brevemente, è una legge di sette articoli e che cerca di affrontare questo tema in tutte le sue sfaccettature, che secondo me sono veramente un'idea di società e di territorio realmente sostenibile, realmente inclusivo e realmente per tutti. Allora ad esempio c'è il tema del consumo di suolo, mi pare che una delle prime slide che abbiamo visto di questo ci raccontasse, forse addirittura nell'introduzione che ha fatto Claudio, se non sbaglio si chiamava, strutturare un modello di territorio che ad esempio ci consenta ogni volta che piove di dire semplicemente to piove e non di temere per le nostre esistenze o per gli ecosistemi che intorno agli edifici ci sono, potrebbe essere un'idea e la coltivazione di cui parliamo è una strada percorribile. C'è un'idea di nuovo di come possono essere fatte le nostre città, la rigenerazione urbana passa evidentemente da processi rigenerativi che non possono utilizzare gli stessi materiali di prima, una volta che devi ricostruire lo fai con materiali innovativi, materiali che permettono ad esempio quel risparmio energetico funzionale appunto a quello che dicevo prima rispetto al clima e alla sopravvivenza delle specie umane e non solo. Poi ci sono le nuove opportunità di lavoro, questa è una regione dove qualcosa nella macchina dell'occupazione si sta rimuovendo nei primi mesi del 2015, ottimisticamente diciamo che faremo un pezzo di valore positivo rispetto ad anni in cui invece la disoccupazione era l'unico più che vedevamo accanto alle nostre statistiche, io credo che un riutilizzo di questo tipo dei suoli, dei terreni, peraltro ci stiamo muovendo sempre con il consigliere De Paulis con una legge sulle terre ai giovani agricoltori, è partito un bando che già ha assegnato più di 300 ettari ai giovani cooperative di ragazzi e ragazze che potrebbero cimentarsi con crediti agevolati che la regione può mettere in campo e sta mettendo in campo per loro e dunque progetti che si tengano gli uni con gli altri anche la coltivazione di canapa industriale di cui stiamo parlando. La filiera è stata più volte richiamata, io penso e su questo la legge è lungimirante nel suo essere circoscritta che il progetto pilota che noi vogliamo finanziare con questa legge sia una delle chiavi di volta della possibilità poi di dare a questa legge diciamo le gambe per camminare e poi per essere virale, per mettere radici a proposito, essere eseminata nel resto del territorio. Perché lo dico? Perché penso che la regione una volta che mette in campo con coraggio, non lo so, secondo me con buon senso una legge di questo tipo deve cimentarsi su un progetto circoscritto che però sia messo nella condizione di funzionare dall'inizio alla fine cioè io non ti abbandono in corso d'opera, devo essere in grado di dimostrare innanzitutto di promuovere la possibilità tua di mettere in campo quel progetto ma di dimostrare al mondo che mi guarda con quello scetticismo, con quell'ignoranza di cui si diceva che funziona, che si può fare e questo significa la formazione, quindi non abbandonare chi si mette dentro questa attività all'improvvisazione ma seguirla, accompagnarlo nel percorso, significa la promozione di questa stessa cosa, significa fornire gli impianti, cioè quell'accesso all'attività che è innanzitutto accesso alla terra ma poi anche accesso alla possibilità di mettere in campo quella trasformazione che poi consegna il prodotto alle sue potenzialità. La legge questo dice, cioè dice che io ti accompagno a te che ti affacci nel mondo della coltivazione fino a che la trasformazione non sia avvenuta e questo secondo me è fondamentale proprio perché pragmaticamente cerca di sorpassare quegli ostacoli che filosofeggiando troppo sicuramente incontreremmo e invece dimostra carta canta che si può fare, che è una cosa esportabile. Io davvero non la faccio tanto lunga perché penso che poi ci sono altri interventi e sia sano fare sintesi quando si raccontano le cose mettendomi a disposizione delle eventuali domande. Però credo seriamente che questa legge che peraltro abbiamo la garanzia sarà una delle prossime discusse in Commissione Agricoltura, l'ottava commissione della regione a cui è stata assegnata, legge che è stata sottoscritta da altri consiglieri di maggioranza quindi non è soltanto SEL a poter fare forza forza d'urto rispetto alla velocizzazione di una discussione, però io penso che sia dentro un modello di territorio che noi stiamo cercando di portare avanti, chi più chi meno. Nella fattispecie noi ce la mettiamo tutta, quella delle terre giovani è un punto che vi ho raccontato, stiamo cercando di declinare la programmazione europea 14-20, sapete che nella regione arriveranno un miliardo e mezzo di euro, una quantità di risorse enorme che andranno poi incanalate dentro dei progetti, questa è una legge che prevede nel suo articolato il fatto che lì dentro si debba sfruttare perché sono soldi nostri che ci tornano indietro quindi legittimamente possiamo impiegarli per lo sviluppo del nostro territorio. C'è il tema delle start-up, che cos'è se non una start-up? Possiamo sfruttare anche i bandi che i giovani e le giovani stanno, giovani poi è zanzolato perché nelle start-up evidentemente conta la gioventù del progetto e non chiaramente di chi lo porta avanti. Un'ultima cosa che voglio dire e poi mi taccio è che esista accanto a questa legge un'altra legge, sempre primo firmatario De Paulis, invece sulla cannabis terapeutica e che esiste comunque in consiglio regionale una mozione che noi abbiamo sottoscritto e che parla di legalizzazione, nel senso che poi l'altro pezzo di questo discorso è anche questo, non va taciuto, c'è un tentativo che noi stiamo facendo di dire ad esempio che vista anche la vicenda di mafia capitale, questo è un territorio in cui le mafie non è che sono infiltrate, sono insediate, hanno quelle sì filiere produttive di trasformazione, legalizzare significa togliere risorse alle mafie e quindi restituirle allo Stato i cittadini sotto forma di servizi, di welfare, di tutte le cose belle che uno Stato quando ha le risorse può fare e in secondo luogo svuotare o comunque rendere più umane le nostre carceri perché io penso che poi tante volte noi ci dimentichiamo che facendo cose bellissime come quei mattoni leggeri che sono lì, come le cose che ci venivano raccontate dalla Puglia si mette in atto un meccanismo che restituisce un mondo più giusto, in questo caso una regione che noi auspichiamo più giusta per un sacco di gente che non saprà forse mai che esiste la canapa industriale ma che si può aggiovare indirettamente dei risultati di questo progetto. De Paolis mi ha detto di dirvi che molto presto vi aspettiamo in Sala Michelli che è una sala tristissima che sta in regione ma molto grande dove replicheremo un appuntamento come quello di oggi in vicinanza della discussione della legge anche perché fare massa critica significa far sentire che non è che ci sono due consiglieri che vogliono la legge, c'è un mondo che è interessato a che la legge venga portata a casa con le risorse che merita quindi con i soldi in bilancio. Grazie. Grazie a te Marta Bonafoni e accettiamo ovviamente l'invito di questo appunto nuovo appuntamento alla regione anche perché abbiamo tutto l'interesse appunto a sostenere questa proposta di legge e portarla al termine. Mi pare di capire che ci sono ancora delle questioni più tecniche che forse Emiliano Stefanini ci vuole dire rispetto proprio all'articolato della legge quindi rilascio la parola se mi confermi. Io mi ricollego a quanto diceva Marta in modo particolare all'opportunità che sia lei che il consigliere De Paulis ci hanno dato. Come presidente e fondatore dell'associazione Canapa Live ho vissuto personalmente i colloqui con gran parte dei consiglieri delle ultime tre legislature della regione Lazio e della provincia di Roma con i relativi assessori all'agricoltura e diciamo che è stata una difficile esperienza in che senso è brutto quando dopo anni di lavoro di sperimentazione di autofinanziamento e anche di finanziamenti pubblici ti trovi davanti degli interlocutori che con grande difficoltà non riescono a dirti io ho difficoltà politica a portare avanti un progetto del genere. Questo significa che gran parte di quel mondo politico col quale ci siamo confrontati negli anni non credeva minimamente nella Canapa come una risorsa primaria cosa che invece noi crediamo e abbiamo dimostrato e possiamo tutt'oggi dimostrare conti e ricerche scientifiche alla mano. Quindi volevo esordire con un ringraziamento particolare a Marta Bonafoni e a Gino De Paulis che invece hanno voluto approfondire questa cosa, questa tematica e siamo arrivati fino alla presentazione di una vera e propria proposta di legge. Molto ma molto brevemente gli obiettivi di questa proposta di legge nascono dalla volontà primaria dell'associazione Canapa Live che interloquendo con i consiglieri che dicevo prima ha cercato di mettere in primo piano quel concetto per noi fondamentale sulla canapa che sono 15 anni circa che diciamo che piantiamo la canapa, seminiamo la canapa per, anzi scusatemi, piantiamo la canapa per seminare un futuro migliore. Che significa questo? Va comunque intrapresa seriamente e concretamente quella conversione ecologica anche nel mondo dell'agricoltura e in tutto ciò che gira intorno all'indotto dell'agricoltura in modo serio. Questo che significa sostituire nel mondo agricolo determinate pratiche, io non condivido quanto ho ascoltato prima per esempio relativamente alla concimazione, noi abbiamo fatto diverse prove e abbiamo diverse pubblicazioni scientifiche dove comunque cambia poco ai fini produttivi l'utilizzo di concimi chimici o meno. Quindi l'indirizzo che noi abbiamo dato fin dal primo giorno è quello di una coltivazione biologica della canapa. Così come gran parte delle ricerche che ho letto negli ultimi anni relativamente alla combustione della biomassa, io credo che, anzi noi crediamo come associazione e anche con gran parte delle associazioni con cui abbiamo collaborato, che la canapa è una pianta così nobile e mi riallaccio a quanto dicevi nella mancanza di memoria. La mancanza di memoria purtroppo in questo paese si trasforma direttamente è una mancanza di cultura perché voler bruciare, sì è vero che produce tanta biomassa la canapa ma credo che bruciarla sia proprio l'ultima ipotesi, ci farei tutt'altro come ultima ipotesi la brucerei. Andiamo invece alla proposta di legge che come obiettivo fondamentale è come diceva prima la consigliera l'obiettivo è quello della realizzazione di un progetto pilota che dia la possibilità agli agricoltori laziali di avere un impianto di riferimento e quindi riuscire anche con dei piccoli impianti trasportabili direttamente sui campi a fare delle produzioni a chilometri zero. Non vediamo affatto sostenibile cosa che invece faremo quest'anno come associazione in collaborazione con le due università agrarie di Alluniero e di Tolfa, ci sono i presidenti Pasquini e Sant'Urbano che dopo prenderanno la parola, coltiveremo circa 15 ettari di canapa oltre a un piccolo campo che faremo per un altro tipo di sperimentazione direttamente come associazione Canapa Live, siamo costretti ad appoggiarci a degli impianti esistenti per poter lavorare il prodotto di quest'anno. L'obiettivo della legge è proprio la realizzazione di questi impianti in regione Lazio iniziando da questo primo progetto pilota e poi man mano diffondendolo, l'obiettivo è quello della costituzione di un consorzio che stiamo costituendo e si chiama Canapalazio, di ripetere su ogni provincia della regione Lazio un impianto. Ovviamente sarà dopo l'approvazione della proposta di legge in base ai finanziamenti, sarà graduale in base agli ettari che verranno coltivati in regione. Questo che significa? Prendere gli aspetti della canapa in relazione anche agli investimenti che richiedono questi impianti, quindi senza sognare troppo e andare sul pratico abbiamo ipotizzato in modo particolare di sfruttare i tre aspetti più fondamentali e meno costosi nell'impiantistica. Primo tra tutti quello alimentare, quindi la coltivazione di campi ad uso alimentare quindi per la produzione di seme, di granella e gli impianti di prima trasformazione del seme in olio, la decorticazione del seme e l'imbottigliamento. Quindi primo aspetto è proprio in relazione a quanto dicevo prima sulla biomassa, prima di pensare a bruciarla penserei a produrci degli alimenti. Quindi la produzione di seme per uso zootecnico, per uso alimentare umano, quindi il seme decorticato e confezionato, la trasformazione, la semplice frangitura e imbottigliamento e la vendita dell'olio ad uso alimentare. L'altro aspetto è invece quello industriale dell'utilizzo del canapolo e della fibra tecnica, quindi un impianto di prima trasformazione per trasformare sul posto o comunque nelle immediate vicinanze la bacchetta della canapa in canapolo e fibra tecnica. L'altro aspetto importante che abbiamo preso in considerazione anche in relazione alle sperimentazioni che abbiamo fatto nel corso degli anni è l'aspetto della fitodepurazione. Gran parte dei terreni agricoli di questa regione purtroppo a causa di un utilizzo sia per quanto riguarda l'agricoltura, secondo me fuori ogni logica, utilizzando pesticidi di ogni genere, quantità di concimi fuori da ogni logica ambientale e in modo particolare anche in zone tipo nella nostra zona, nel comune di Civitavecchia, gli impianti termoelettrici che per anni hanno disseminato sul territorio quantità di metalli pesanti non indifferenti. Sempre nella regione, altra zona di riferimento e di questo ne abbiamo parlato a lungo con l'assessorato dell'agricoltura, abbiamo la Valle del Sacco che è notorio a tutti la quantità di veleni che abbiamo in quelle zone. Quindi questo che significa coltivare almeno tre cicli per tre anni di seguito la canapa utilizzando ovviamente in base alle analisi di quello che la canapa è riuscita a sottrarre al terreno, verificarne poi l'utilizzo, che per esempio in bioedilizia non abbiamo grossi problemi ad utilizzare il raccolto di campi contaminati una volta inertizzata per esempio nei mattoni di canapa e calce. Gli obiettivi della legge quindi sono attraverso questo progetto pilota riuscire a finanziare il minimo degli impianti necessari per incentivare un agricoltore a coltivare la canapa nella nostra regione anche perché molti ragionamenti che ho ascoltato qui ma che seguendo la tematica da tanti anni secondo me sono rischiosi proprio per la canapa, quello di vendere aria fritta, cioè chiedere agli agricoltori di coltivare la canapa quando poi in realtà non avendo degli impianti diciamo il ricavato da un ettaro di canapa rischia di essere veramente poco, il risorio credo che sia uno dei modi, rischiamo di produrre l'effetto contrario, cioè quello di disincentivare il mondo dell'agricoltura nel ripristinare le coltivazioni di canapa. Quindi ecco, al paese mio si dice che è sbagliato farsi prima la sella e poi il cavallo e credo che questo sia uno degli esempi. Rende l'idea, rende l'idea. Grazie. Grazie Emiliano.